Sarà una stagione turistica da ricordare perché nel 2022 la Puglia ha raggiunto i risultati che erano stati prefissati per il 2025. La pandemia e la guerra insomma non hanno impedito la crescita del turismo pugliese che ora guarda in avanti. La nuova sfida è la definizione del piano strategico turismo-cultura fino al 2030. Anche settembre e ottobre vanno oltre il più 5% rispetto al 2019. Con l'assessore Lopane abbiamo partecipato qualche giorno fa ad una conferenza internazionale e tutto il mondo sta settando la sua ripresa sul 2023 per raggiungere il 2019. La Puglia invece lo raggiunge e lo supera su tutti i mesi dell'anno. Considerate che gennaio, febbraio e marzo è in parte aprile anche, siamo stati chiusi. Ebbene noi superiamo come presenza del più 1% il 2019, quindi direi un anno record per la Puglia nel turismo. Il mese di agosto che segna l'unico dato di poco negativo, cioè dell'1% negativo, invece è ripreso dai mesi di settembre e ottobre che vanno al più 5%. Quindi il paradosso è che ciò che potrebbe apparire un dato negativo diventa il dato positivo. Stiamo destagionalizzando e stiamo internazionalizzando. I dati che commentiamo oggi sono quelli di una Puglia che non solo ritorna al pre-pandemia, presenze significative che già ci parlano delle 15 milioni di presenze con due mesi ancora dalla chiusura dell'anno, ma che addirittura superano quei dati. Nonostante i primi quattro mesi di un 2022 caratterizzati ancora fortemente dal Covid, nonostante un conflitto internazionale in corso, una crisi energetica ed economica assolutamente significativa, la Puglia resta attrattiva e sulla base di questi dati pensa a riformulare la strategia che porterà la Puglia a 2030. Pure il comparto soffre e si registrano anche delle chiusure importanti per effetto della crisi energetica. Intanto noi ci aspettiamo delle risposte assolutamente importanti dal governo che si è appena insediato. Speriamo che il governo dia dignità al Ministero del Turismo, che lo annoveri fra i primi ministeri e che nel novero delle prime attività che il governo sta impostando ci sia spazio per misure che vadano a contenere i danni di una crisi energetica che è davvero importante e che sta mettendo in ginocchio gli operatori. Letti alla luce di questo contesto, i dati di quest'anno della Puglia sono ancora più straordinari.